e no perchè mi sto... perchè mi devi concentrare... alla campo di scuola si ma non vi era tu eh... minciavolo che ha fatto kiss non c'è l'uomo lì se l'hai registrato ti prego mettici volare sotto che sto fai no io l'ho visto all'inizio e dove arriva il ruolo non c'è l'uomo lì